Buonasera, buonasera carissimi amici, facciamo un po' di ragionamento sulla giornata di Serie A che è in pieno svolgimento. Vediamo che cosa ci ha detto e che cosa ha ancora da dirci. Oggi ci ha parlato di un'Atalanta che, ampiamente come previsto, si è sbarazzato del Parma e quindi l'Atalanta che è in ripresa dopo lo shock anafilattico della famosa eliminazione dall'Europa League. Poi Ilicic, il rientro di Ilicic, ha fatto la differenza e sta facendo la differenza. La Juve è la solita Juve che in qualche modo riesce a vincere. Secondo me anche qui c'è un neo oggi in questa partita perché quel rincore è stato a mio avviso generoso, purtroppo generoso. Sono rigori molto dubbi, poteva anche non essere dato. Poi questo Ronaldo, vedete, così osannato, la doppietta. Ma un esigore, un altro, un tiro da fuori dove il postiere non credo si sia posizionato bene perché prendere un gol da 25-30 metri è pur sempre un esore anche del postiere. Poi questa supponenza di Ronaldo, i giornalisti che lo osannano, che magari viene a guardare e si dice che Ronaldo non è soddisfatto del gioco della squadra, ma stiamo scherzando. Magari sono i tifosi non soddisfatti del gioco di Ronaldo. Ronaldo è uno, dovrebbe essere uno come gli altri. Ma poi alla fine dei conti non lo è perché guadagna tutto quello che guadagna. Gioca quando vuole, come vuole, dove dice lui, nessuno può dirgli niente, né sulla posizione, né sul gioco, né nulla. Allegri, come al solito, è un pupazzo sulla panchina. Io lo disistimo, il mister Allegri, lo disistimo profondamente. Fermo restante che la Juve è la squadra più forte, più forte in assoluto. Quest'anno anche, penso, a livello di champion potrebbe vincerla. E per evitare il triprete, i triprete, amici indiristi, l'unica speranza, quest'anno credo, e lo dico con anticipo, di puntare alla Coppa Italia, per evitare questo triprete. Poi sto seguendo in basso qui Torino-Fiorentina, che non è ancora terminata, manca qualche minuto ancora. Stanno sull'1-1. E domani, domani, la giornata, vabbè, nelle prime ore sono tutte partite di seconda fascia. Sassuolo-Bologna, Cagliarichievo, Genova-Udinese, Spalfrosinone. Il bello viene alle 18, o Milan-Sampdoria, perché il Milan è chiamato, come dire, a una partita cruciale. La Sampdoria è una bella squadra, il Milan non può più sbagliare, e il Gattuso, il ringhio Gattuso, sta sulla graticola. Io credo che, se il Milan non vincesse, anche un pareggio costerebbe la panchina. A Gattuso, ormai i giochi sono quasi fatti, Leonardo da dirigente passa sulla panchina, ormai sono tutti allenatori fatti in casa, nel Milan. Gattuso sta recitando, penso, un ruolo che non gli appartiene in pieno, non ha la rilevanza, la classe internazionale per fare l'allenatore di una grande squadra. E credo che alla fine paghi, perché il Milan domani è chiamato a un esame finale. Poi, in serata, Napoli-Roma. Napoli-Roma, attenzione che questi complimenti al Napoli, più che giusti, anche per la superprestazione in Europa, mettono in secondo piano la voglia di riscatto di una Roma, che comunque è una signora squadra. E io, onestamente, mi farebbe piacere per gli amici napoletani, che ne ho tanti, che il Napoli potesse pure vincere. Però ho una sensazione, ho la sensazione che la Roma vada a fare a Napoli una bella partita che potrebbe anche vincere. Vi sembra forse una follia, ma io penso che la Roma, a Napoli, potrebbe anche vincere. Fate gli scongiuri che volete e gli è giusto così. Poi, nel lunedì, nel lunedì avremo la nostra Inter con la Lazio, quindi a Roma. Onestamente, a livello statistico, la Lazio non ha mai pareggiato, l'Inter non pareggia da una vita. A livello statistico, visto che la X è risultato più probabile, è onestamente. A me mi sarebbe anche molto bene, perché manteremmo il terzo posto in classifica, manderemmo la Lazio dietro di noi. E quindi, andrebbe bene così, anche se, ovviamente, il tifoso spera sempre di vincere. Chi è che non spera di vincere? E quindi, si sa. Ma, il pareggio, lo dico adesso, non solo è il risultato più probabile, ma è un risultato che farebbe comodo all'Inter. Quindi, questa è la riflessione. La riflessione, poi, tornando un attimo indietro sul Napoli, dico che ho visto tanta euforia in giro, anche dopo il pareggio della settimana scorsa della Juve con il Genoa. I napoletani sono molto facili agli entusiasmi, come facili alle depressioni. Quindi, io credo che, in fin dei conti, non bisogna farsi troppe illusioni. La Juve è una corazzata, che, ad esempio, oggi, non so, Manzuki c'è l'infortunato, non se ne ha vestito l'assenza. È una corazzata di campioni che, non credo, lasci tante speranze. Però, ovviamente, finché ci sta la possibilità, la matematica, è ovvio che si faccia il tentativo. Però, domani, ecco, domani il Napoli è chiamato a un esame che, se la dovesse superare, se il Napoli dovesse vincere con la Roma, io direi, mi sono sbagliato, anche nella mia sensazione, e allora, complimenti vivissimi. Questo è tutto. La partita qui non è finita. tra Torino e Fiorentina, se dovesse finire così, ci mancano ancora 3-4 minuti, compreso il recupero, e, diciamo, ormai, credo che si sia avviato verso un parigi scontato. Grazie a domani sera per i commenti a queste partite. Ciao, iscrivetevi al canale. Ciao, iscrivetevi al canale. Ciao, iscrivetevi al canale. Ciao, iscrivetevi al canale.